Scatta il piano sicurezza coordinato dalla prefettura di Napoli a partire da tre ore prima del match. Dalle 12 il centro e fuori grotta diventano zona rossa, 90 varchi presidiati e 2000 agenti in strada. Tutti i dettagli con Carlo Solimene. Permettere ai napoletani di festeggiare senza che però le celebrazioni per lo scudetto si trasformino in un bollettino di guerra che sia messo a rischio il patrimonio artistico della città. L'obiettivo del piano messo a punto da comune e regione in vista della sfida con la Sarenitana è che si concentra su traffico e gestione sanitaria delle eventuali emergenze. Dalle 12 di domenica e in caso di scudetto fino alle 4 di lunedì mattina il centro della città diventerà una maxi isola pedonale da piazza Garibaldi a fuori grotta. Allo stadio di fatto si potrà arrivare solo attraverso la tangenziale. Una novantina i varchi che saranno presidiati con l'ausilio anche di 2000 agenti che dovrebbero arrivare da Roma. Il transito sarà comunque consentito a una serie di categorie come disabili e medici in visite domiciliari d'emergenza. Attesa oggi una riunione per potenziare il trasporto pubblico. Sul tavolo l'aumento delle corse di bus e metro e il prolungamento degli orari del servizio. Sul fronte sanitario saranno allestiti 12 punti di primo soccorso, ad esempio all'esterno dello stadio e a piazza Prebiscito e scatterà già dalle 10 di domani il divieto di sosta e di fermata nel raggio di 300 metri dai 6 pronto soccorso allertati. Ospedale del Mare, Cardarelli, Santo Bono, San Paolo, Pellegrini e CTO. Presidiati infine i principali monumenti per proteggerli dagli eccessi della festa, fare i puntati tra le altre su piazza del Gesù, piazza Municipio e piazza San Domenico Maggiore.